Riguardo al telecontrollo, in particolare la parte software che riguarda il telecontrollo, General Electric si occupa di tutti i sistemi, tutte le soluzioni che sono necessarie per questo settore all'interno di uno scenario ancora più ampio di cui poi magari parliamo più in dettaglio. Ecco, anzitutto quindi perché c'è un interesse a partecipare a Telecontrollo 14esima edizione per voi? Ok, per quello che riguarda la nostra divisione noi partecipiamo a Telecontrollo non dall'inizio e l'interesse è in particolare quello di fornire delle soluzioni per il mondo del telecontrollo in generale, nel nostro caso più in particolare nel settore delle utility, nel settore del trattamento delle acque, per fornire soluzioni che siano sicure e aperte proprio per questo settore, in modo da garantire il massimo della flessibilità nel gestire architetture complesse come sono quelle del mondo di oggi. Lo accennava poco fa, c'è un progetto all'interno di General Electric proprio per sviluppare a pieno le possibilità del telecontrollo? Esatto, diciamo che General Electric è un nome abbastanza noto a tutti e a volte è difficile collocare esattamente nel contesto giusto. Per quello che riguarda la nostra presenza qui a Telecontrollo è in particolare l'attenzione che GIA ha nel mondo del software per le applicazioni industriali. General Electric da alcuni anni ha abbracciato proprio una filosofia di supportare tecnologie legate al mondo dell'industria e all'internet, ovvero alle applicazioni industriali che fanno uso di internet. E da questo punto di vista le chiediamo anche quanto c'entra l'industria 4.0 perché sembra un discorso molto collegato? Sì, praticamente sono discorsi molto collegati, molto simili, semplicemente lo sponsor principale è oltreoceano. Negli Stati Uniti il termine utilizzato è quello dell'industria e all'internet ma fa comunque riferimento a quella rivoluzione tecnologica legata ad internet che sta arrivando sempre di più nel mondo industriale. Quindi anche quando andate a ricercare le professionalità in questo momento partite proprio dalla coscienza dell'importanza del Telecontrollo? Assolutamente, il software sta diventando ormai importante in ogni ambito e nel mondo del Telecontrollo la necessità di integrazione di sistemi diversi, la necessità di utilizzare i dati che vengono raccolti in modo da fornire informazioni più utili agli operatori e arrivare a una gestione ancora migliore di quelle che sono gli asset installati. Quindi contenimento dei costi e miglioramento delle prestazioni dei dispositivi utilizzati. Dunque sviluppo del software è una parola chiave, ci sembra di aver capito anche per voi, di General Electric. E allora quanto c'entra e quanto è importante oggi parlare anche di cyber security? Esatto, questo è uno dei cardini fondamentali dei discorsi legati all'industria e all'internet perché sono applicazioni internet molto diverse da quelle dell'internet del consumer dove dispositivi che sono collegati tra di loro devono essere sì in grado di comunicare ma devono farlo anche con un livello di sicurezza molto superiore e quindi devono essere concepiti nuovi sistemi, nuovi software, nuove piattaforme, software che consentano di integrare tutto questo con il massimo della sicurezza possibile. C'è lavoro da fare, grazie allora. Ce n'è tantissimo e ne stiamo facendo già un bel po' e ce ne saranno delle belle novità nel prossimo futuro. Grazie e buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci.